C'è un rivendicare il senso di responsabilità di fare una manifestazione culturale, di non inseguire il consenso che è figlio dei giorni nostri e che è sicuramente più facile ma che non costruisce e siccome è una manifestazione anche con soldi pubblici ha maggior ragione bisogna avere il senso di fare qualcosa che anche solo una persona torni a casa con un valore importante su cui riflettere e riflettere non significa sicuramente soltanto intrattenere ma far anche pensare che sembra che in questo periodo storico sia una cosa negativa invece pensiamo che non sia così. Siamo passati dall'essere un'associazione Arci e siamo stati più di 10 anni come associazione contando anche più di 30 elementi. Poi le cose evolvono e ci si perde un po' per strada abbiamo fatto tantissime cose soprattutto a Idrea, a qualche paesino sulla Serra, abbiamo lavorato molto per quanto riguarda i musei del canadese e quelli etnici. A noi piace molto lavorare insieme perché ognuno di noi ha un percorso individualistico perché chiaramente siamo, comunque siamo tutti delle, virgolette, delle prime donne. ci troviamo spesso per lavorare, per studiare, per fare delle cose nuove, vogliamo fare molta ricerca adesso e quindi meno esposizioni in giro. Per quanto riguarda invece il Jazz Festival sono tanti anni che collaboriamo con Massimo Barbiero e tutti gli anni gli presentiamo qualcosa di nuovo. L'anno scorso abbiamo fatto un'installazione in via Palestro con questi temi che tu vedi qua appesi, erano appesi in alto e quest'anno inizieremo a dipingere insieme alla musica perché si crea anche un po' di contaminazione tra le arti, quindi la musica come la pittura, arti visive, arti sonore. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quest'anno siamo arrivati alla 41esima edizione di Open Papirus Jazz Festival e direi che questa manifestazione ha sempre un risultato e un successo importantissimo, è tra le manifestazioni di jazz più importanti d'Italia soprattutto perché dura da 41 anni e non è poco. Direi che Massimo Barbiero che è il direttore artistico, oltre ad essere direttore artistico è anche un bravissimo musicista e proprio per questo ha la capacità di attrarre sul territorio jazzisti di fama internazionale e bravissimi.